coccodrilli eccoci di nuovo qua con le avventure del fa ma certo che senza fa le avventure non le possiamo fare quindi adesso mi concentro stiamo sotto un garage tanto bene eccolo sei venuto a rompi coglione anche di lì sto teletrasportato ma io sto ben da solo ma io ho fatto così sei venuto qua dai per le avventure del fa fa una faccia d'avventura del fa si la faccia d'avventura del coglione no oggi sarà un'avventura un po piccantella molto fa la faccia piccante più piccante più piccante intanto mandiamo subito immediatamente la sigla che è fantastica vai lancia sta sigla vai lancia così con sta mano così vai lanciarla meglio ma qui cosa la fa lei la lancia meglio la sigla cominciamo eh meglio vai lanciamola proviamo riproviamo dai meglio vai vai no meglio no oh ma dov'è fa ancora no 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 ma no sigla le avventure del fa ok inizia l'avventura del fa sempre tanti anni fa ma saranno 55 anni fa ma anche più ma che ce frega dove stavamo? stavo a Riccione dove? a Riccione a Riccione? sì a Riccione sotto il sole sotto il sole di Riccione di Riccione di Riccione ma che hai fatto? eh? che hai fatto? di Riccione e poi? che hai fatto? ho sentito un rumore è possibile no no stai qui stai qui è possibile o no? no ma sono sbagliato io sotto il sole sotto il sole di Riccione di Riccione di Riccione di Riccione oh bella 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 mi piace così ok abbiamo appurato che eri a Riccione queste barriccione ma 55 anni fa anche più eh e io ogni anno c'avevo ferie e andavo al mare devo al mare di lì in spiaggia gli eravamo e visto si stava un vicino all'altro perché e vicino a me c'era capitata una una bella donna ma bella era una mora c'era un fiettino c'era 4 o 5 anni quindi era una milf ma quei miscola quei miscola era una donna era una milf era una bella solda ma era una milf o no? ma che ne so se era una milf o no? no no milf vuoi dire? vuoi dire che è una mamma buona? era una donna una bella donna una bella mamma oh ma me la fa tanta lunga si levano sentì e così Vanni che c'aveva questa bella donna? niente ce l'avevo davanti stavo di lì mi stavo a due metri eh io mi cercavo di girarmi cosa sa ma questa sempre davanti al piazzone eh e stavo in costume gli scappavano due gaffe dalle parti del costume ma 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 scappavano il piazzone gli scappavano? eh beh io cercavo di guardare ma vado avanti e vado da lì i piazzone di qua e lì da lì io furavo sempre con l'occhio aperto eh si è matto eh ogni tanto ma io ho visto lì c'era il calore eh era già caldo l'estate tu c'avevi i bollori interni eh eh ogni tanto c'aveva gente l'acqua a smorzare i calori c'è molta l'acqua e riscappava per venire su quella da lì eh vabbè e quante volte ci hai fatto? eh mannaggia ma io non mi giravo da qualche parte ma non niente ma quella da lì che fai guardi e gli occhi cascano no? quindi deve essere col pelo lungo nero? ma io lungo e corto che ne so io so che te li scappavano i ricetti dalle parti lungo e il riccio? eh 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 era giovane e avrà avuto 27-28 anni una bella sorca ma bella mora Dio buono oh io mi volevo scusare ma eh sì 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 la dimenti era lì ma se tu ce l'hai letta lì davanti che fai vedi? vieni guardi ho capito ma eh eh fino a un certo punto potevi mettere l'occhiali da sole sì ma giravati quando avevo in via del giornale e mi mettevi a leggere ma con quell'occhio sempre sempre pronto e attento il FA quindi questa era un'altra avventura del FA molto carina vi aspettiamo come sempre la domenica vero? noi siamo qua con l'avventura del FA ah fa così ciao